Ciao a tutti, sono Martina della Samobar Viaggi, mi trovo al ponte 5 Taormina, uno dei ponti della Costa Smeralda. Adesso venite con me che vi faccio vedere la Colombina, ovvero uno degli 11 ristoranti a bordo di Costa Smeralda. Venite. Prima di andare al ristorante mi lavo le mani. Adesso le salifico. Venite con me. Questo è il ristorante La Colombina. Vi aspetto a bordo di Costa Smeralda. Ciao.